Il dramma di un paziente oncologico e dei suoi familiari invadi ogni sfera del vivere quotidiano. Il supporto psicologico diviene strumento indispensabile, lo ha compreso anche il Consiglio regionale della Puglia che ha approvato la proposta di legge tutolo per il sossegno psicologico in ambito oncologico all'interno delle aziende ospedaliere. Un servizio già attivo in forma volontaria grazie alla Lilt. Il supporto, l'aiuto psicologico è importantissimo sia nella prima fase della diagnosi, della comunicazione della diagnosi sia durante la cura e sia dopo durante la riabilitazione. Noi ci siamo posti il problema che fosse indispensabile allargare questo discorso ai familiari dei pazienti e in effetti abbiamo pure qualche bambino in questo momento che segue questo programma. Il progetto Lilt si chiama Poden ed è attivo a Foggia, Bari e Taranto. Abbiamo lottato perché si allargasse alle famiglie e fosse anche domiciliare. Vede il tumore ancora oggi è un tunnel in cui bisogna entrarci stringendo la mano di qualcuno e bisogna intravedere la luce che sta in fondo a questo tunnel. Purtroppo i casi di cancro sono in aumento e necessaria diventa la prevenzione. Siccome dal Covid in poi purtroppo la situazione è peggiorata notevolmente, il numero di casi oncologici è in aumento continuo, diventa ancora più importante l'aspetto psicologico di supporto per affrontare questa malattia.